ciao ciao amici sempre qua con il raffa ho dovuto prendere l'altro cappotto che ho in macchina perché sta scendendo il sole giungono le tenebre e giunge anche un gran freddo fa ancora freddo lui si sta congelando però le mani sono caldissime perché sta continuando a trasformare i transformer allora come dico sempre iscrivetevi al mio canale e like al video se vi piace continuiamo con i transformer fai vedere cosa facciamo adesso oggi andiamo a vedere il braccio destro di megatron sandweb e in più raffa ha anche tutte le cassettine quindi vedremo sandweb con tutte le cassettine quindi state incollati al monitor mi raccomando per questa grande recensione a tra poco super recensione ragazzi allora partiamo sempre da lui che sandweb giusto sandweb qualche inglese sandweb sandweb allora vediamo cosa troviamo all'interno troviamo va beh solito libretto l'istruzione sempre curato bene sempre con le card da collezione e poi troviamo allora sandweb vedete qua eccezionale con una sola cassettina giusto una sola nano messa nel master place e poi cosa troviamo troviamo il cubo di energo un vuoto la parte intercambiabile qua davanti del mangia cassette perché ricordiamo che lui è uno stereo mangia cassette poi troviamo il megatron guardate qua che vi abbiamo fatto vedere prima nella recensione perché lui una volta usa il megatron vedete per sparare a optimus quindi gli hanno messo nella scatola di sandweb il megatron trasformato in pistola come l'avete visto prima nella nostra recensione e questa è l'arma di sandweb allora cosa è che questa sarebbe la seconda parte di questa qua come questa che questa è l'altra arma che a sandweb che sono la mitra di attrice laser quello che era il cannone a me piace un sacco sandweb dico la verità perché mi piace un sacco il viso di sandweb che adesso comunque vediamo nel dettaglio bene ma in questa recensione cosa ha avuto la grande idea di fare la cosa che non abbiamo mai visto andremo a recensire insieme le cassette che andavano dentro di lui dentro sandweb bravo che tutti i suoi robot che sono rambo e jaguar che sono rambo il jaguar bacio e franzi esatto 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 e più c'è anche qui e condor condor che come ricordiamo condor però esce già di base insieme all'optimus scusate alla sandweb della masterpiece quindi quelli applicati a parte sono loro quattro che sono loro voglia che potevamo già tirarli fuori per far vedere ma facciamo di vedere queste poi facciamo la recensione partiamo da sandweb e poi tutte le cassettine tutte le trasformazioni come promesso ragazzi vi faccio vedere prima di andare a vederli tutti quanti e tutte le trasformazioni vi faccio vedere anche l'unboxing delle cassettine troviamo le loro armi solita scheda con la card da collezione poi troviamo le due cassettine con le rispettive fodere di qua la stessa cosa le due cassettine con le rispettive fodere card da collezione libretto armi vedete quale armi di loro due al completo e poi qua cos'è raffa queste qua sono le armi aggiuntive di di rambo praticamente sono quelle che vedete qua che creava i terremoti che le applicavano vedete alle braccia quindi dai direi vediamo adesso sandweb nel dettaglio e poi dopodiché lo trasformiamo in mangiacassette loro le trasformiamo subito si dai trasformiamo vediamo subito tutte le versioni robot e poi la versione cassetta finale per concludere insieme al mangiacassette e te 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 eccoci qua amici guardate che bello che sandweb sandweb è veramente veramente bello guardate bravo il viso fai vedere poi vi ricordate lui era un mangiacassette quindi aveva le cassette che gli uscivano dal petto come ad esempio vedete e poi dopo come nella serie lui poteva tenere quante fino a cinque cassette voglio vedere il sistema che hanno fatto in questo master price che va all'indietro lì praticamente la parte lì dove vediamo qua la cassetta si spinge all'indietro e riusciamo a fare stare in questo caso però tre cassette giusto allora vediamolo bene nel dettaglio ragazzi perché guardate veramente veramente in diretta sto trasformando rambo nel frattempo che carlo parla io trasformo vedete lui sta trasformando una delle cassettine rambo intanto io prendo lui vi faccio vedere bene lui nel dettaglio che oggi ragazzi ribadisco abbiamo dimenticato la piassa la pedana rotante quindi faremo le recensioni così è venuta così io non rifaccio mai niente perché lo faccio per passione spero che vi piacciono anche così spero di farveli vedere bene guardate poi dopo la prossima volta ci organizzeremo meglio perché adesso viene l'estate le faremo anche al lago in giro dappertutto ci divertiamo intanto facciamo le recensioni sempre se ci faranno uscire guardate come è fatto bene comunque sia dettagliato anche in questo caso se non ma sando è veramente bello a me piaciuto segnato l'arma l'arma è un'altra delle sue arme secondarie il pugno vedete sono queste le due armi questa qua ragazzi e questa qua più la sua che ha specie basi sulla schiena questa qua questo qua è il marchi ingegno questo tastino vedete che ci permette di aprire la parte frontale dove si inserivano le cassettine comunque guardate nel dettaglio com'è fatto veramente bene tanto raffa si sta portando avanti monta tutte le cassettine così vi facciamo vedere anche tutte le cassettine in versione robot vediamo anche la parte posteriore vediamo tempo frente è pronto lui non è molto complesso da trasformare in mangiacassette rispetto a optimus ma soprattutto a megatron che era praticamente qualcosa di impossibile guardiamo anche dall'altro comunque veramente bello sand wave è veramente bello sand wave solito pirla ma vedete lei stop avanti indietro perché lui è mangiacassette e niente andiamo a trasformare lui trasformiamo tutte le cassettine che vi facciamo vedere ve ne faccio vedere una passameli quella l'ancora chiusa che lui è condor giusto condor sono tutte uguali sono tutte così vedete con il simbolo sotto dei desepti con e poi si vanno a trasformare quindi questa basta vederne una perché cambia cosa cambia soltanto la colorazione vediamo ne faccio vedere un'altra guardate vedete ovviamente cambia la parte dietro perché cambia il robot ma fondamentalmente sono tutte uguali e va a cambiare soltanto la colorazione a jaguar e questa qua infatti quella rossa già no a quella nera quella nera vedete nel fottempo appoggio il caro eccolo qua guardate bellissimo grande grande adesso anche frenzi guardate con anche frenzi e adesso li andiamo a montare tutti quanti ragazzi ve li facciamo vedere questi due già montati li faccio vedere così guardate che bellini grande raffa tutto in diretta guardate queste sono le recensioni belle perché è passione questa qua ragazzi è passione ho dovuto mettere il cappotto perché è sceso il sole e arriva il gelo non so come fa raffa è motivato da una grande passione guardate i primi due li abbiamo già trasformati adesso sta operando su jaguar eccolo qua inizia a spuntare il jaguar il jaguar arriva il jaguar ragazzi arriva il jaguar però dai montiamo le tre quaglia e facciamo vedere tutte insieme ragazzi ce l'abbiamo fatta allora guardiamoli tutti trasformati anche loro come promesso queste sono le cassettine questo è condor poi questo è buzzword buzzword come si chiama franzi franzi si conosce sì perché loro due sono due fratelli giusto si rambol che lui che ci tende ma noi stai mettendo le frenzi fate carine guardate pensate che questo anche queste sono cassettine che si trasformano così praticamente sono due fratelli identici e condor che anche loro sono identici cambia solo la colorazione vedete quello che avete visto da l'arma di rambol che ma le spalle che uguale a frenzi metto soltanto comunque fatte carine veramente loro c'è jaguar e come ci siamo accorti che il povero jaguar anche nella serie televisiva il naso è stato vedete è stato cacciato da un cacciatore che gli ha sparato e ha fatto saltare il naso però se l'è cavato ed è rimasto così storpio vedete senza il jaguar poverino senza il naso vedete no è bellino però forse è il più carino di tutti i jaguar eh la cassettina trasformata cos'è gioco effettivamente poi lo scoprirò dopo no è sfuggito a quell'attentato e su cybertron quel cacciatore su cybertron comunque allora guardate che bella questa scena qua di sand wave con tutte le sue lui trasformato e tutte le sue cassettine trasformate guardate che bella da incorniciare guardate questa scenetta qua bellissima ragazzi guardate e direi adesso trasformiamo ritrasformiamo loro in cassetta sand wave in mangia cassette e concludiamo con un po di music eccolo qua sand wave trasformato ragazzi in mangia cassette guardate che spettacolo qua ha fatto un'opera d'arte raffa lo devo ringraziare sempre perché si mette veramente a fare queste trasformazioni che non è lo dico sempre per niente per niente facile guardate qua queste sono le cassettine facciamo vedere anche il dietro guarda vedere anche il dietro raffa guardate questo è il dietro vedere la parte sotto vedete guardate si vedono le gambe sotto che vanno girate guardate veramente per fare queste cose qua sembra semplice ma non lo è per niente fare queste trasformazioni qua perché guardate fai vedere anche il libretto guardate la che cosa c'è da fare ragazzi una cosa incredibile sono veramente cose difficili queste abbiamo ritrasformato tutti i loro cassettine guardate che bello guardate qua il nostro mangia cassette vai vai mettiamo la cassettina fai vedere un po di musica vai no aspetta aspetta che se non schiacciamo play play no uomo no crime no uomo no crime no uomo no crime no uomo no crime avete visto ragazzi proprio uno stereo incredibile eccezionale guardate dobbiamo provare avanti indietro proveremo prossimamente qua sempre il simbolo dei desepti con comunque veramente bellino anche sun wave promosso l'unico forse un po bruttino come abbiamo detto di questi che abbiamo recensito oggi è bumblebee ma era così e quindi niente che dire andiamo a concludere anche questo l'hanno visto penso benissimo i nostri amici ragazzi ragazzi purtroppo vediamo quello che non avremmo mai voluto vedere ci dispiace un sacco ma il jaguar è stato catturato guardate ed è diventato un tappeto vedete come è piatto guardate un tappeto per un magnate russo guardate guarda Raffa come tappete è diventato un tappeto per un magnate russo che è riuscito a catturare poverino che brutta fine che ha fatto jaguar ragazzi è finita anche questa recensione amiche ci è andata di lusso che sto magnate russo vedete quelle pellicce appese con la testa della povero leona della povera tigre voleva un jaguaro quindi minchia guardate qua che povera fine ha fatto jaguar quanto ci ha commissionato un milioncino di euro guardate qua stile pelle da mettere come tappeto per camminare sopra questa povera fine che ha fatto il jaguar spero che la recensione vi sia piaciuta se vi è piaciuta like al video e soprattutto iscrivetevi al canale noi mettiamo un po' di musica adesso perché fa freddo e vi salutiamo così vai vai play no uomo no cry ciao 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 c